Catania Smart City è un progetto per fare crescere la città, è un progetto per migliorare la qualità della vita dei cittadini, è un progetto che aiuterà a dialogare meglio con l'amministrazione, ad avere più trasparenza, ad avere informazioni corrette per la mobilità nella città, a segnalare le cose che non funzionano e ad avere delle risposte. È un progetto che usa la tecnologia per rendere più umana, più viva, più vera la nostra città. Prisma è un progetto finanziato dal MIUR che sviluppa una piattaforma cloud e open source per digitalizzare la pubblica amministrazione. Catania Smart City è la porta d'accesso alle soluzioni in government di Prisma, un portale attraverso cui interagire con la pubblica amministrazione e i suoi servizi, che sviluppa la partecipazione attiva e consapevole. Tecnologie a servizio del cittadino, con supporto delle forze più innovative e creative del territorio. All'interno di Catania Smart City si può accedere a City Reporter per segnalare e risolvere i disservizi della città, City Mover per agevolare la mobilità sostenibile con i mezzi pubblici, City Welper per mettere in rete le associazioni di volontariato ai servizi che offrono, City Data per rendere accessibili gli open data del comune e migliorare la trasparenza. Con City Reporter, in particolare, attraverso un sito web e un'applicazione per lo smartphone, è possibile segnalare un disservizio e monitorarne la risoluzione. Le foto e le coordinate di buche stradali, degrado del verde pubblico o guassa all'illuminazione potranno essere trasmesse alla pubblica amministrazione che se ne prenderà a carico. Catania è una città bella, è una città che quando viene conosciuta viene apprezzata. Io vorrei che fosse apprezzata anche di più. Per fare questo c'è bisogno di partecipazione e di innovazione, di disponibilità a guardare con fiducia e serenità al nostro futuro.